Breve resoconto dei lavori della seconda commissione, che è la commissione bilancio, risorse finanziarie, partecipate e quant'altro, ci siamo visti perché dovevano passare al vaglio della commissione due variazioni in vista del prossimo Consiglio Comunale. La prima è stata un'integrazione di 80.000 euro, quindi passando da 1.600.000 a 1.680.000 euro per quello che riguarda le risorse disponibili per effettuare degli interventi lungo l'asse del Viale 20 settembre riferibili sostanzialmente alle condutture, agli scarichi. Per quanto riguarda invece la seconda variazione approvata, è stato accolto in bilancio sostanzialmente dal punto di vista contabile il progetto La Mia Carrara. Si tratta di un intervento volto a contrastare la disoccupazione di lunga durata e che avrà come effetto anche la realizzazione di importanti lavori di bonifica ambientale, che è stato condotto in partnership dal Comune, da Ania, dal Consorzio di bonifica e finanziato in gran parte dalla Regione. Si tratta infatti su un intervento complessivo di poco più di 165.000 euro, di intervenire con un contributo a carico del Comune limitato a solo i 10.000 euro, mentre le altre risorse disponibili saranno tutte finanziate dai soggetti partner.